Tocchi il naso, ok, brava sempre, resisti, ok, resisti, ok, brava, tenterai spettacchi, niente di dolore, lascia l'idea, ecco, brava, brava. Ciao a tutti, sono Dottor Toni Caruso, sono qui con... Natalia. Ok, dai, stai in piedi un po', ti dice un po' di te, chi sei, tutto quanto, dove lavori. Allora, io ucraina, vengo da Ucraina, abito a Milano da 13 anni. Hai conosciuto Lidia, il nostro assistente, che è anche lei? Sì, faccio parrucchiera da 22 anni. Bene, bene. Ho una carissima amica che fa parrucchiere, che è qui su Corsa Venezia, si chiama... Come si chiama il suo po'? Mayra. No, Mayra, conosco Mayra. No, no, Messia 1. Messia 1. I don't know Mayra, non ne sono nomi, ne sono le cose. Ok, e come mai siamo qui? Come mai siamo qua? Ma vorrei provare questa esperienza, perché adesso ho sentito un po'... Ok, e i dolori dove hai? Dove hai i dolori? Di solito mi vieni la schiena in un periodo di lavoro, perché stiamo sempre tanto in piedi. Ma i parrucchiere sono sempre così? Poi, nonostante anche parrucchiere, io faccio tanto sport. Cosa fai? Io dico, corro e faccio palestra. Prima facevo pesi, ma adesso ho smesso un po' perché... Corpo libero? Corpo libero o i corsi di total body. Ok, hai avuto qualche intervento nella vita? No, più specifico, speciale niente. Niente, figli? C'è un figlio di 10 anni. Due figli? Uno. Uno a 10, io ho uno a 15. Fumi? No, vabbè, svapo, ma non... Va bene, va bene, va bene. E come dormi? In quale posizione? Vabbè, dormo benissimo. In quale posizione? Ma mi sembra che il suo... Io mi piace sul fianco a destra. Ok. Volevo commentare su quello, quando ha chiesto che lei fuma, detto che lei va. La differenza è molto diversa, perché quando fumiamo con un sigaretto normale, quella è combustione, che combustione causa cancro. Quando è veppo, cosa di Lycos, quello è scaldato, ha un effetto stra minore di qualunque cosa sigaretto normale. Tutti due dovremmo smettere, ma il secondo è molto meno maligno. Ok, dai, togli le scarpe, togli la cintura. Ok, dai, vieni qui con... qui con la schiena verso di me. Niente che faccio fa dolore. Se non puoi capire il mio accento mostruore in italiano, mi fermi i piedi e lo spiegherò bene. Ok, unisci i piedi. Chiudi gli occhi. Ok, si andò un po' più a destra. Gira... No, anzi, facciamo così. Metti i piedi insieme. Se lei si andò un po' a destra, voglio vedere se corrisponde anche questo. Chiudi gli occhi e tocca il naso con il minolo a destra. Con il minolo a destra. Destra, giusto. Questo, giusto, e tocca il tuo naso. Ok, ritorna. Con questa. Ok, si, è mancata. Mani giù. Apri gli occhi ancora. Voglio vedere. Chiudi gli occhi. Ok. Vieni qui, siediti qui verso di là. Più indietro, adesso di me. Ok. Quando tocco un po' più sensibile a destra. A destra, sì. Ok. Tieni così. Lascia. Resisti su. Resisti su. Ok, facciamo qui. Resisti. Ok, lascia. Vediamo. Un po' di sensibilità a destra. Quando tocco. Quando tocco. Parlo a sinistra? Sì, a destra. Ok. Stiamo parlo grando. So con lei sto facendo questa. È la prima cosa del fuori posto. Quando testiamo questi bracci. Qui, resiste. Ok. Lascia giù. Sei di sicuro se stimola qui. Diventerà un po' più forte. Vediamo. Resisti. E così. Ok, vai pancia in su. La testa qui. Hai detto che ha un figlio. O figlia. Figlio, maschio. Figlio. E com'è questa maschia? Com'è? Maravigliosa. Vuomo della mia vita. Giustissimo. Giustissimo. E come si chiama? Se possiamo chiedere. Christian. E com'è la sua personalità? Leone. Leone. Quando è nato? Il 18 agosto. Vediamo. Stiamo testando questo pain reflex. Un riflesso. Vediamo. Lei è tutto normale. Vediamo. Questa freddezza qui è uguale a questa? Mi sembra che va più freddo. Facciamo ancora. Questa? O questa? Uguale. Ok. Vediamo. Ok. Adesso sto controllando il colo. E qui è bloccato. Si sente questa fastidio quando tocco? Vediamo. Anche qui. Figlio, bravo a scuola? Molto. Molto bravo. Non è abbastanza bene. Pance in giù. Ok. Devi mettere la testa dritta così. Ecco. E poi le manine qua. Ok. Tieni le piedi così. E solo così. Tieni la gamba così. Io spingo, tu resisti. Resisti. Ok. Vediamo. Resisti. Ok. Giù. Il muscolo è forte. Quando spingo sull'aveto perché è bloccato, posso farlo più debole. Adesso vediamo. Quello era bloccato nel bacino qui. Quanto ne hai? 38. Ok. Ok. Nota che ho chiesto quello basso, perché l'ultima volta che ho chiesto a un signore sul video che aveva 69 anni, era offesa. I dottori chiedono se hai sposato, i figli, quanti ne hai, interventi. Per quello ho chiesto più basso. Ok. Ok. Punch in su. Quello che sto facendo, sto... How do you say palpation? Palpando. Uff. Sto va palpando, vedete come si muove le vertebre. Adesso voglio testare un po' di muscoli. Lascia, lascia. Io spingo dentro e tu resisti verso di me. Ok? Resisti. Ok. Bravo. Giro la testa a destra. Resiste. Ok. Vedi come va molto debole? Mi dici che c'è qualcosa che non va nel colo che influisce sul sistema che rende lei più debole. Questo video oggi è tutto di onore di Oreste. Ok. Ok. Gira sul fianco verso di me. Ok? Su questa parte. Così? Giusto? Ok. Adesso... Senterei crec-cracqui. Niente dolori. Lascia libera. Ecco. Brava. Sei ancora viva? Certo. Bene. Certo. Ci sei certo. Io chiedo che questo è un uomo di like. Non so ancora. Però ovviamente mamma, donna, è forte. Giro la verso di me. Le mamme, le mamme. Ok. E anzi, la tua soggiorna qui come lo trovi? Che sei qui tra i decenni. Ti trovi bene? Come la casa mia. Come la casa tu? Ormai anch'io, perché sono qui 28 anni, mi sento sempre molto New Yorkese perché sono di New York. Ecco. Punch in su. Però la mia chiave, il mio porto chiave è il simbolo di Milano. Simbolo di Milano. Sì, sai, il simbolo di quella croce rossa. Questo mi piace Milano. Sei mai stato in New York? No. Sì, più immigrazione in... No, aspetta, lascia. Ok, questo è bloccato qui, c'è due su questa parte. Brava. Ancora viva? Sì. Brava. Le donne sono superforte, non posso scioccarle. Ok, vediamo. Vai punch in giù. Però ha una sorrisi sulla faccia, so credo che sta andando bene. Mette la testa dritta. No, scusa, mette la manina qui. Ok, lascia le mani giù. Ok, inspira profondo. Inspira? Inspira. E poi fuori. Brava. Ok, bravissima. Siediti su verso di me. Quante volte le settimane ti eleni? Cerco di allenare cinque. Oh, bravissima. Cinque. Fantastico. Se posso anche di più, sì, però il tempo... Sì, facendo lavoro e mamma, ti lascia poco tempo. Qual è un problema? Vediamo. Dai, stai in piedi un attimo? Giro la schiena. Mette le mani su così. Occhi chiusi. Tocchi il naso. Ok. D'aggiù. Siediti qui un'altra volta. Guarda questa. Ok. Ok. Stai in piedi un'altra volta. Schiena verso di me. La stessa cosa. Mani su. Tocchi il naso. Ok. Benissimo. Con questa. Ok. Mettiamo giù. Salutiamo tutti. Vuoi salutare il figlio? O è... Non è su... Non è su social. Non è solo... Non è solo a mia. Non è social. Anyway, ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie. Grazie tanto. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie per la visione!